Massimo Mariotti al termine della partita con il Sandrigo il risultato di 6-3 che fotografa però forse in maniera non troppo precisa quella è stata una gara molto tirata, impegnativa, equilibrata che i tuoi hanno saputo vincere con un parziale finale di 4-0 Come la partita con il Via Reggio anche questa la temevo molto perché era una squadra chiaramente il Sandrigo ha costruito una squadra per entrare nei play-off si trovava prima di stasera a un punto e ha esonerato ieri l'allenatore e in questo caso i giocatori non avevano alibi quindi chiaramente c'è sempre una scossa, c'è sempre un moto di rivalza e quindi era una partita come lo è stata specialmente il primo tempo e per metà ripresa molto complicata poi di nuovo sotto 3-2 abbiamo pareggiato, ha fatto un gran gol Baragà e da lì poi abbiamo gestito molto bene l'abbiamo portata in porto e credo che sia un risultato per noi importante perché dopo 8 giornate abbiamo perso una partita in casa con il Via Reggio, ne abbiamo vinte 3, pareggiate 4 di cui 2 in casa con Bassano e Folloni che abbiamo fatto 4 punti e con eventuali concorrenti per la salvezza abbiamo sempre pareggiato fuori casa ci troviamo in una posizione di classifica importante abbiamo ora 4 partite sulla carta molto difficili, Valdagno, poi in casa Trissino Lodi e a Forte dei Marmi però le affronteremo ora anche con una testa un pochino più libera e se all'inizio del campionato ci avessero detto che dopo 8 giornate avevamo questo ruolino avremmo firmato tutti questo però non deve essere un punto d'arrivo ma deve essere un punto di partenza perché questa squadra giornata per giornata, allenamento e allenamento può crescere sempre se rimaniamo umili Allora, tanto complimenti per quello che si dice Fiano Cascina per l'inverno, adesso arriva veramente una situazione molto difficile per quanto riguarda solo quello che dice la classifica arrivano le squadre più importanti, ne parlavamo anche col presidente Stefano Osti quattro gare, come si dice, è difficile anche farne uno di punti però partite con più sgomberi perché dopo aver fatto bene fino ad ora volete testare quelle che sono le vostre capacità? Anche con Bassano e con Follonica era come giocare con, non voglio dire col Trissino ma con Lodi, Forte dei Marmi lo troviamo fuori casa, il Valdagno è uguale però dobbiamo, ripeto, rimanere umili, concentrati, capire sempre dove facciamo gli errori ma avere il massimo rispetto, sono gare difficili, potremo anche fare zero punti nelle prossime quattro partite ma lotteremo per fare comunque punti anche a Valdagno perché nel mio DNA, e questo è nel DNA di alcuni giocatori più esperti e comunque della squadra che è quello che cerchiamo tutti di trasmettere quindi vediamo, un passo alla volta, comunque 13 punti dopo 8 giornate è un buon bottino quindi dobbiamo lavorare tranquillamente e affrontare gara per gara come abbiamo fatto finora Allora, complimenti ancora per l'ennesima vittoria e ci rivediamo qui noi ci rivediamo qua direttamente per la festa, per l'8 di dicembre col Trissino Sì, verrà qui la squadra che in questo momento qui è sulla carta la squadra più forte del campionato ha fatto un gran risultato anche in Coppa, in Scempio, con l'Iseo, sono tutti nazionali i giocatori di chi fra l'altro io conosco molto bene e quindi comunque il Trissino verrà qui l'8 dicembre c'è ancora tempo e speriamo di avere ancora il supporto maggiore del pubblico però ripeto, prima c'è il Valdagno, ora abbiamo 10 giorni, recuperiamo meglio Pablo anzi, gli voglio fare un plauso perché non è da tutti subire l'intervento che ha subito in settimana e mettersi a disposizione ieri sera abbiamo fatto 40 minuti di allenamento con la B è entrato e ha dato una mano alla squadra come tutti i giocatori chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno si sta mettendo a disposizione del gruppo e questo è fondamentale Grazie Bocca al Lupo per il ritorno Grazie anche a voi